Come ogni anno torno a Castelluccio, come le rondini sono tornato, attratto da una forza irresistibile. Sono tornato per ritrovare la bellezza e la vita, come la rondine ritrova il suo antico nido. Sono tornato per partecipare ancora una volta al miracoloso matrimonio tra l'uomo e la natura. Il paesaggio perfetto dove il lavoro e la generosità della madre terra hanno creato uno scenario unico al mondo. Sono venuto qui con un solo corpo macchina, l'XE3 e il nuovo zoom Fujinon XF 1680 mm, compatto, leggero e stabilizzato. Quest'ottica, così versatile, mi ha permesso di spaziare dai grandi paesaggi fino al piccolo particolare, regalandomi immagini di incredibile nitidezza nel minimo dettaglio. L'XF 1680 è l'ottica ideale per creare una storia, diverse prospettive in un unico obiettivo. A Castelluccio vivono uomini secchi, forti e tenaci che rispettano la terra come nessun altro. Piantano i loro semi, li accudiscono con cura, ma lasciano che tra i legumi cresca quello che la natura vuole, dai rossi papaveri agli azzurri fiordanesi. Ma la natura è come gli uomini, sa essere buona e pure crudele. Sa disegnare il paesaggio perfetto, così come riesce a distruggerlo in pochi attimi senza alcun preavviso. La terra si è aperta ed ha tremato forte a Castelluccio. Le case sono cadute, le stalle sbriciolate, ma la bellezza ogni anno imperterrita spinge con forza dal terreno e rinasce. Il vento sparge un'energia che contagia le anime. I sassi squadrati, i coppi, le travi torneranno al loro posto. Il mio sguardo vola come una rondine sopra le piane colorate e i boschi che teneramente abbracciano il piccolo bordo ferito. Ora che ho visto, so per certo che, come le rondine, ho ritrovato il mio nido. Grazie a tutti.